Buongiorno, salve, oggi parliamo di un nuovo video e parliamo della scomparsa di Lenia Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e di Romina Power. Per parlare di questo rapimento, e che è collegato anche al rapimento di Emanuele Orlandi, per parlare di questo rapimento dobbiamo parlare proprio di tanti anni fa, negli anni 50, mia nonna materna in brevetta alla televisione. Brevetta alla televisione fonda Leier, l'azienda che oggi è l'attuale Rai. Negli anni 60, cioè una sette, otto anni dopo, decina d'anni dopo, i commentatori della Rai, questi nomi famosi, Giuseppe Baudo e altri, non la riconobbero, riconobbero una sosia e la mandarono a casa. La mandarono a casa e gli dissero, devi portare avanti l'azienda da casa, però non ti paghiamo e se non lo fai uccidiamo la tua famiglia, cioè i tuoi figli, quindi anche mamma e i tuoi nipoti, quando conosceranno i nipoti. Quindi nonna portò avanti l'azienda minacciata e la facevano raccomandare di tanto in tanto alcune persone, quindi raccomandava ogni tanto il conduttore, il telecronista, quindi le persone della Rai. E' mancata nel 91, l'hanno uccisa mia nonna materna, ingegnere miele, l'hanno vilipesa sessualmente nel cadavere. L'hanno vilipesa nel cadavere e quindi mia nonna è mancata. Tra le persone che c'erano, c'erano anche quelli della televisione. Nel 92, circa nel 92 circa, il Giovanni Paolo II, il papa che era il nipote di mia nonna, telefonò a casa e disse io come proprietario della Rai, che nel mente era stata espropriata nel 91, quindi come proprietario della Rai riconosco la famiglia Iadaresta, che sarebbe me e mia mamma, perché la Rai non è stata ancora pagata. E quindi disse Giovanni Paolo II a mia mamma, disse siccome mi capita che i cardinali mi raccomandano delle persone nel campo della televisione, siccome io non ho tempo, disse Giovanni Paolo II, occupatevene voi. Disse mamma va bene, se il papa me lo chiede lo farò. E quindi mamma iniziò a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, quindi la contattavano i cantanti, ogni tanto raccomandava qualcuno, eccetera, eccetera. Successe questo e quindi conobbe anche la famiglia Carrisi, quindi Romina Power e Albano Carrisi. Un giorno mamma mi disse, quindi circa nel 92, mi disse guarda, sto in contatto telefonico con la mamma, con Romina Power, perché io la conoscevo per mezzo che cantava a Sanremo, quindi le canzoni famose che conosciamo. Sto in contatto con Romina Power e la fidanzata disse mamma te la trovo io, perché praticamente Romina Power aveva una figlia che aveva più o meno la stessa mia età, è un pochettino più grande. E quindi disse mamma, vi conoscete d'accordo con Romina Power, disse vi conoscete e dopo se sono rose fioriranno. Un po' di tempo dopo Ilenia Carrisi fu rapita e quindi sparì in circostanze misteriose. A rapirla una banda di pedofili che si voleva appropriare delle mie aziende e delle aziende dei miei nonni, quindi collegate ad alcuni pedofili che erano i locali, quindi italiani, Milano, in Campania, e in Calabria, quindi questi pedofili qua. Nel 1997 ho fatto una truffa, questo già era premeditata, però l'ho fatta a maggior ragione, una truffa io allora, io a questi pedofili, perché sapevo che mi volevano uccidere quando facevo il militare, quindi ho fatto il militare nel 96-97 e quindi sono venuto a conoscenza dell'identità di questi pedofili, pedofili insospettabili, che appunto mi fecero questa truffa. Invece di fare la truffa loro a me, la feci io a loro, io con i carabinieri e con le forze speciali francesi, d'accordo con alcuni capi di Stato. E quindi sono venuto a conoscenza dei pedofili che volevano rapire, che hanno rapito Ilenia Garrisi e Emanuele Orlandi e volevano uccidere me e alcuni miei familiari. E quindi questa è la verità su Ilenia Garrisi. Vi saluto, grazie e arrivederci.